Anche quest'anno risuona il no alla violenza di genere, ma i casi sul territorio non mancano. Dall'apertura del Centro di Violenza della Libellula di Sulmona nel 2008 ad oggi sono state prese in carico 227 donne. Dall'apertura della Casa delle Donne nel 2005 ad oggi sono pervenute 128 richieste d'ingresso e sono state ospitate nella struttura 33 donne e 39 minori. Dall'inizio del 2016 le nuove segnalazioni sono state 21 e le persone prese in carico 32, dati non troppo rassicuranti se si considera che l'Abruzzo, in quanto a violenza di genere, è maglia nera. L'età media delle donne che si sono rivolte al centro è di 39 anni, con la più giovane di 18, la più grande di 59. L'87% di loro è italiana, il 13% è straniera, la gravità della violenza è che di tipo affettiva, cioè da parte dei partner, nel 38% e nel 44% di ex, per questo il 60% non lascia il suo uomo violento. Nel 100% dei casi le donne hanno subito violenza psicologica, il 50% fisica e 56% economica. Da rilevare, fra l'altro, che nel 50% dei casi la donna che subisce violenza non lavora. Oltre alla disoccupazione, un altro fenomeno gravissimo, la violenza assistita, che riguarda tutti i figli delle mamme vittime di violenza, col 40% di loro che ha subito a sua volta violenza diretta, con conseguenze comportamentali, cognitive e relazionali. Per contrastare il fenomeno si punta un protocollo operativo che vedrà il comune di Sulmona a scendere in campo al fianco delle associazioni, delle cooperative e degli addetti ai lavori. Da un anno a questa parte, anche nell'Alto Sangro, è stato aperto lo sportello La Ninfea, che ha preso in carico 10 donne con età media di 38 anni. Questa sera alle ore 21 al Cinema Pacifico, anche il teatro si vorrà di traverso la violenza di genere. Con lo spettacolo Riprendiamoci i nostri sorrisi, curato dall'Associazione Culturale Arianna, in collaborazione con l'Horizon Service. È arrivato il momento di dire basta alla violenza di genere, non solo oggi.